bella a tutti i forniters benvenuti e bentrovati su leon tube eccoci qui per vedere il negozio oggetti di oggi 8 maggio e torna il bundle ccfn capitolo 5 stagione 1 con la skin nascosto campione dorso decorativo emblema del vincitore dorso decorativo aegis ccfn questo dorso che lo stiamo aspettando ancora per l'ultimo campionato diciamo icona e lama del campione copertura colori del campione musica da lobby fatti sentire e poi la traccia gemma uguale scorriamo torna ancora il bundle brigata biker con trita tutto torso decorativo stile di strada spina dorsale in torso decorativo strada pronta piccone acceleratore e deltaplano pampa eccolo qua deltaplano carine le fiamme ma sempre il solito deltaplano e poi il bundle graven molto bello molto bella questa skin abbiamo due stili diciamo con essenza e piuma in capo torso decorativo ali imbalsamate deltaplano ali di graven e piccone mezzaluna maledetta acquistabile anche in singolo oppure in bundle a 2200 più back poi abbiamo due mot buffo e passo incrociato poi sotto abbiamo le lame magliati che sono il cosmetico più raro di oggi 374 giorni mi sembra quindi poco più di un anno di assenza poi abbiamo la skin indesperato eccola qua senza dorsi decorativi aggiunti jonesy vestibilità po panzone qui jonesy e dorso decorativo pacchetto mazzo forse per questo che è un po panzone perché ha mangiato un po di hot dog poi abbiamo leader della squadra delle coccole anzi più della squadra delle urla versione quindi zombie con il dorso decorativo lama bombi l'amabominio piccone chimerash vediamo il sound swag shuffle ancora disponibile poi arriva goliata il bundle premie krestar con regista composta che possiamo andare a personalizzare il nostro personaggio in base alla nazionalità vediamo se cambia proprio la maglia ah sì ok cambia proprio cambia proprio la divisa già impostata possiamo andare a personalizzare il numero 5 4 varianti e skin abbiamo ovviamente anche il paese rappresentato fortnite questa divisa 2500 v pack versione maschile anche questa con 4 4 stili di giocatore di personaggi così le scorriamo giusto per questo con la cresta 2005 uguale poi abbiamo il piccone tacchetto elite e pallone d'oro però non fa il suono e deltaplano goliata classico deltaplano riadattato e molto ribalzi gioco di gambe e cartellino rosso poi abbiamo il tour burger manzo boss tutti i vari pacchetti classici ok e poi abbiamo ovviamente anche questo è il bundle della stessa pasta il bundle se si offende capitolo 5 stagione 2 il bundle il pollo gigante è stato da tutto di fotorama le tracce gem billy eilish tra poco arriverà la sua seconda skin e tutti i cosmetici di star wars ok qui termina il negozio di oggi ragazzi ci vediamo presto mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale ciao a tutti ciao a tutti Grazie.